Lo sportello del cittadino, la rubrica che si occupa appunto di problematiche del territorio inerenti soprattutto alla vivibilità urbana e con l'avvocato Giampiero Mancarelli che è presidente dell'AMIU. E allora Mancarelli un momento molto intenso per l'azienda perché si sta procedendo nella città con la realizzazione e con il completamento della raccolta differenziata. Allora Presidente facciamo un po' il punto della situazione, cosa si è realizzato, si sta procedendo per tappe e quelle che saranno le tappe future in questo cronoprogramma. Sì dicevi bene direttore, noi abbiamo iniziato da due settimane la raccolta differenziata e città vecchia con un sistema innovativo che è quello dei cassonetti ingegnerizzati, tutta la città vecchia ha avuto delle tessere magnetiche che si avvicinano alle diverse tipologie dei quattro cassonetti, indifferenziato vetro, multimateriale e organico e che consentono a qualsiasi ora quindi di conferire il rifiuto e quindi c'è il passaggio quotidiano. Abbiamo anche dei sensori che ci dicono quando sono pieni i cassonetti per essere prelevati. In queste prime due settimane dobbiamo dire che i numeri sono abbastanza buoni, si parla di un 58% di raccolta differenziata in città vecchia. Non voglio nascondere le difficoltà che stiamo incontrando, delle sacche piccole, determinate che insomma ci lasciano... Una certa resistenza. Assolutamente sì, ma lo sapevamo, ci stiamo anche coordinando da una parte con le associazioni e devo ringraziare anche la Chiesa Don Emanuele Ferro, l'Oratorio San Giuseppe, ma anche il Retake, Plastica Qua, Siamo Taranto, Legambiente, che ci stanno dando veramente una grossa mano di sensibilizzazione. La strada è impervia sicuramente, ma ci aspetta lì e passo passo stiamo andando avanti. Adesso abbiamo inserito altre isole per venire incontro alle esigenze dei cittadini e poi anche stiamo facendo dei passaggi direttamente domiciliari presso le utenze non domestiche, quindi ristoranti, bar e altre utenze che vedono quindi il vetro e la raccolta della carta cartone per evitare quindi di andare sul cassonetto. Abbiamo da migliorare senza dubbio, noi dalla prossima settimana saremo inflessibili con i nostri ispettori ambientali perché non possiamo consentire che un piccolo manipolo di cittadini irrispettosi dell'igiene e della cura, come ci ha chiesto il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, vengano a sporcare città vecchia. Vogliamo far diventare un punto di riferimento la città. Dal prossimo inizio del mese avremo anche lo stesso sistema dei cassonetti ingegnerizzati in città al borgo, come sanno tutti i cittadini che stanno avendo e hanno avuto la... Quindi in pratica al borgo sarà lo stesso sistema della città vecchia? Assolutamente sì, in piazza Garibaldi presso insomma il chiosco dell'ufficio informazioni in via Crispi presso la nostra isola ecologica i cittadini possono andare a prelevare il sottolavello, hanno avuto già la scheda e noi ci stiamo apprestando velocemente anche a riempire anche il borgo di questi nuovi cassonetti ingegnerizzati. Presidente, quindi abbiamo visto città vecchia, borgo, vediamo un po', facciamo un po' una panoramica di tutti i quartieri di Taranto perché ovviamente a scalare, in progressione, occorrerà praticare il sistema della differenziata nell'intera città. Assolutamente sì, Rinaldo Melucci ci ha dato un mandato importante, poderoso, che è quello di completare entro l'anno tutta la città. Abbiamo a Paolo VI e Tamburi il sistema dei carrellati e dei mastelli, senza dubbio stiamo riscontrando dei problemi e delle criticità come avviene in tutte le parti d'Italia, insomma bisogna andare in rodaggio perché i cittadini non sono abituati e quindi la fanno. Abbiamo avuto numeri importanti oltre il 60%, dobbiamo richiamare all'ordine e uso questo vostro canale per poter dire ai cittadini che la raccolta differenziata è un dovere civico e che bisogna farlo secondo le indicazioni date. Quindi a Paolo VI e Tamburi va portato e conferito il rifiuto la sera del giorno precedente a quello del prelevamento. Quindi è inutile portare plastica, cartone, carta i giorni precedenti, molti giorni precedenti perché è un'infrazione che può essere anche multata e quindi va fatto nella sera del giorno precedente. Noi vogliamo implementare l'azione, io chiedo scusa per alcuni disservizi che stiamo avendo nella città sullo spazzamento ma guardate noi abbiamo, colgo quest'occasione per dire che su www.amiutaranto.it sul portale c'è il portale delle assunzioni, dei bandi per i concorsi a tempo indeterminato di oltre 67 figure. Con questo volevo soffermarmi, infatti mi ha preceduto il discorso quindi dell'ampliamento della pianta organica. Una rivoluzione 4.0 di Chima Ambiente Amio voluta dal sindaco Rinaldo Melucci che prevede le assunzioni di oltre 41 operatori ecologici, 11 ispettori ambientali, 10 autisti, avvocati commercialisti e nuovi impiegati. Questo per aumentare il brand e il servizio al cittadino. Noi probabilmente scorreremo anche oltre perché la presenza della quota 100 e comunque una serie di ampliamenti di servizi che stiamo effettuando ci portano ad assumere altro personale per rendere più efficiente il nostro servizio. Bene, abbiamo fatto un po' il quadro della situazione per quanto riguarda la differenziata, per quanto riguarda l'ampliamento della pianta organica. Ecco, prima di congedarci vorrei un suo appello ai cittadini a seguire le norme, a comportarsi da persone civili, voglio sostenerlo e sottolinearlo, ai fini della differenziata perché questa è una battaglia di civiltà. Oltretutto bisogna comprendere che la strada, l'esterno è casa nostra, non dobbiamo solo limitarci, come dire, alle nostre quattro pareti di casa. Assolutamente sì e ti ringrazio per questo appello. Facciamosi seguire dai nostri figli, i nostri figli hanno una sensibilità ambientale molto più ampia di quella nostra, noi dobbiamo lasciare un creato migliore, una terra migliore di quella che abbiamo avuto in prestito dai nostri figli e quindi chiedo a tutti, Paolo VI e Tamburi, di attenersi scrupolosamente a quelle che sono le norme, quindi conferire il rifiuto la sera precedente a quella del passaggio che avverrà perché guardate ci sono i vostri parenti, i vostri genitori a raccogliere quel rifiuto e quindi dobbiamo essere i primi a tenere decoro e igiene urbana. Per quanto riguarda la città vecchia e il borgo invece abbiamo una facilitazione, c'è la possibilità quindi di andare a conferire il rifiuto quando si vuole con la tessera che abbiamo consegnato a tutte le famiglie e quindi un vantaggio ancora maggiore che abbiamo voluto dare perché città vecchia e borgo devono essere i punti di riferimento per la nostra comunità. Proprio per concludere potremmo usare una battuta, uno slogan, diciamo differenziamoci dagli incivili. Assolutamente sì, con questa battuta è veramente bello infatti direttore, è questo, insomma lasciamo gli inzivusi fuori da Taranto. Grazie a tutti. Grazie a tutti.